Buon pomeriggio a tutti, questo video per fare la consueta panoramica generale sulle principali piazze finanziarie internazionali a metà settimana, oggi giovedì 12 gennaio, sono le ore 16, quindi metà seduta e ci avviamo verso la conclusione. Partirei come al solito dalla borsa italiana, dal nostro future Fuzzinib che è partito molto bene quest'anno, ha superato prima l'indicatore Parabolic SAR, poi la media mobile a 25 e infine in ultimo anche l'indicatore Supertrend, quindi si trova al diesopo di tutti i principali indicatori che assolutamente utilizziamo per le nostre analisi e per le nostre strategie di trading, ma ancora bene perché ha superato prima il livello 24 mila e poi anche l'importante soglia dei 25 mila punti e si sta dirigendo verso il 26 mila, però direi che la corsa ha un po' il fiato corto, già nella giornata di oggi sta il mercato leggermente ritracciando nonostante la positività derivante dal dato sull'inflazione americana che è stata rilasciata appunto un'ora e mezza fa del 6,5% rispetto al precedente 7,1%, quindi il miglioramento, però il mercato, ripeto, sta comunque ritracciando, ha partito bene questa mattina e qui nel pomeriggio sta un po' andando al ribasso. L'altro canto sta correndo molto da oramai una decina di giorni e c'è bisogno di un ritracciamento, quindi l'impostazione e la struttura grafica di per sé è rialzista, il mercato tenderà al livello 26 mila che tutto sommato vede abbastanza da vicino, considerato il massimo realizzato oggi a 25,780, però a mio parere nel brevissimo, quindi nelle prossime sedute si assesterà ad un ritracciamento, un ritracciamento dei prezzi che non dovrebbe arrivare addirittura a quella che è la soglia dei 25 mila, potrebbe fermarsi prima, però un 25 mila e 200 lo vedo abbastanza bene, credo che sia un ritracciamento fisiologico, salutare, una sorta di pullback su tutte queste rotture rialzista che ci sono state finora e che poi potranno permettere e dare campo libero al mercato di continuare a salire, quindi impostazione rialzista però nel brevissimo qualche seduta al ribasso. La situazione è analoga anche sul mercato tedesco per quanto riguarda il future tax che ha addirittura superato nella giornata di ieri e confermato nella giornata di oggi il superamento di quota 15 mila, un livello decisamente alto. Lo ha raggiunto? Non so, non credo che lo terrà ancora per molto, è più probabile anche qui un ritracciamento dei prezzi con qualche seduta al ribasso che possa portare i prezzi verso il livello 14.750 per poi continuare nuovamente la salita, raggiungere il 15 mila ed andare oltre. Quindi anche qui grafico impostato è bene, ma purtroppo mercato che ha corso molto sotto certi punti di vista, sotto certi aspetti anche inspiegabilmente da inizio anno, per cui un fisiologico ritracciamento ci sta a tutto. Dando invece uno sguardo al mercato americano, oltre Oceano o Wall Street, qui davanti abbiamo il grafico dello Standard & Poor's 500, la situazione è meno brillante rispetto alle borse europee. Sì, il mercato è salito anche lui dall'inizio dell'anno, ma tutto sommato rimane ancora imbrigliato in un'area di congestione, di lateralità e che può essere identificata o meglio interpretata come una fase di accumulazione. Quindi sì, ci sarà positività in futuro, però non subito. Oggi è stata raggiunta, sull'onda appunto, prima della pubblicazione del dato sull'infrazione americana, che ripeto è stato più basso rispetto al precedente, si è assestato al 6,5%, è stato superato il livello 4.000, soglia psicologica molto importante. Anche se in realtà, come abbiamo già detto in tante video analisi in precedenza, il vero spartiacque tra positività e negatività della borsa americana dello Standard & Poor's 500 è il livello 3.900. Vi siamo sopra e quindi questo è già un aspetto positivo. Su questo livello 3.900 oltretutto passa una media mobile a 25 che quindi conferma e rafforza la sua funzione di supporto, però anche qui il mercato vedo che sta stentando ad andare a rialzo. Non ha avuto forza come le borse europee già dei primi giorni dell'anno, non vedo come possa averlo nelle prossime sedute, quindi nelle prossime giornate e anche la settimana prossima qui mi aspetto un ritracciamento, anche qui mi aspetto debolezza, mi aspetto un pullback, un ritracciamento che possa riportare i prezzi molto vicini al 3.900, visto che oggi non riesce e non riuscirà probabilmente neanche in chiusura a superare il 4.000. Quindi negatività di brevissimo che possa portare i prezzi verso il 3.900 e sperando che vi rimanga sopra, cioè vuol dire che comunque il sentiment, se ben debole, rimanga comunque strutturalmente positivo. Da lì poi il mercato potrebbe nuovamente con lentezza, come al solito lo Standard & Poor's, fare, riprendere quota e finalmente al secondo tentativo andare a superare, più avanti, magari fra 15 giorni, magari fra 20 giorni, il livello 4.000. Completamente diversa invece la struttura grafica del petrolio, del W2I, il crude oil, che invece sta andando al rialzo. Ha toccato e realizzato un supporto sul minimo in area 72,50 e da lì sembra avere invertito, seppur lentamente, la rotta. Ha già superato la media mobile 25, si sta dirigendo verso l'indicatore Parabolic SAR sul livello 80, avendo come obiettivo rialzista, che credo potrà raggiungere nelle prossime sedute e probabilmente entro una decina di giorni, anche il livello 82,50. Effettivamente le manovre speculative a ribasso del petrolio sull'onda della possibile recessione che tanti vogliono ventilare, sulla quale io francamente invece non sono molto d'accordo e non vedo né così grave né così imminente, credo che il petrolio potrà salire ancora. Adesso abbiamo il primo target 82,50, come detto, dove passa l'indicatore supertrend, ma non disdegno neppure l'ipotesi che anche questo 82,50 possa essere superato al rialzo per andare verso 85 e anche oltre, ovviamente ampliando l'orizzonte temporale. D'altro canto, l'ho detto tante volte e non l'ho detto solo io, ma l'hanno detto soprattutto i produttori di petrolio, l'OPEC, loro lo vogliono vendere a 90 dollari al barile, quindi prima o poi vi arriverà nuovamente esattamente a questo prezzo di equilibrio. È solo esclusivamente una questione di tempo, al di là e al netto, delle manovre speculative che vi sono in corso. Per quanto riguarda invece il petrolio, l'altra commodities, l'analisi che avevamo già fatto fin da metà dicembre, si sta rivelando e si è rivelata assolutamente corretta. Avevamo dato indicazione di aprire posizioni long sopra il livello 1835, previo pullback e da lì il mercato infatti pur lentamente, di giorno in giorno è sempre salito, dando come obiettivo il livello 1900 che è stato raggiunto proprio oggi. Qui le posizioni rialziste a mio parere possono essere chiuse, anche perché il pattern che si sta delineando nella giornata odierna è un pattern di natura ribassista, assomiglia ad un martello invertito, assomiglia, non lo è tecnicamente e precisamente non lo è, ma dal punto di vista dell'interpretazione del significato è molto simile, quindi un pattern ribassista che sta ad indicare che nelle prossime sedute, così come è doveroso che sia, il mercato potrebbe avere un ritracciamento con qualche seduta ribassista che possa riportare le quotazioni dell'oro, del gold, fin verso 1850. Non più di un tanto perché comunque il mercato è ed ha una struttura assolutamente rialzista con una bellissima trendline positiva ascendente, mercato che potrà spingersi nelle prossime settimane, anche nei prossimi mesi, ben oltre il livello 1900. Leggevo tra l'altro report di banche d'affari americane e più di una convergeva sul fatto che entro la fine dell'anno potremmo vedere l'oro addirittura a 2.100, quindi oltre i massimi visti nella scorsa primavera. Infine uno sguardo al mercato valutario, al principe dei cross, all'euro dollaro, anche qui le analisi effettuate, sì non solo nelle settimane precedenti ma anche nei mesi precedenti, si stanno rivelando assolutamente corrette. Io a differenza di altri ho sempre sostenuto che il raggiungimento del livello 105 non fosse un target venendo dal basso, ma fosse addirittura un livello di breakout per aprire posizioni long di lungo periodo. Così effettivamente è stato e così effettivamente sembra essere. Abbiamo rotto il rialzo 1.05, siamo rimasti un po' in congestione, un po' laterale, abbiamo poi all'inizio dell'anno, nelle prime sedute dell'anno, fatto un pullback proprio sul livello 1.05 che se in passato era resistenza, oggi e adesso per le regole di analisi tecnica diventa supporto, supporto che ha tenuto e da lì le quotazioni hanno ricominciato a salire tentando proprio nella giornata di oggi di andare ben oltre il livello 1.08, rompendo proprio in questo istante, ancora una volta vivendolo in diretta, l'indicatore super trend. Quindi se c'è addirittura la rottura di questo indicatore dopo aver superato già tutti gli altri, è chiaro che è una conferma di un trend in corso. A mio parere si può ancora entrare long su questo mercato, chi ha le posizioni invece già aperte long, avendo seguito diciamo le mie precedenti indicazioni, il consiglio è quello di assolutamente mantenere perché le quotazioni dovrebbero continuare a salire. Poi adesso è difficile stabilire quale potrebbe essere il target, guardiamo di giorno in giorno quello che succede, vediamo di giorno in giorno quali pattern si andranno a formare perché ovviamente a ogni superamento di resistenza o di indicatore, poi capita spesso avere il pullback eccetera, comunque monitoriamo di volta in volta quello che posso dire adesso è che c'è questo breakout rialzista a cui stiamo assistendo in diretta nella giornata di oggi, quindi il mercato è long e le posizioni vanno mantenute e le posizioni anche nell'intraday conviene sicuramente aprirle in una direzione rialzista. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana e come al solito vi auguro buon trading.